Dopo l'annullamento della fira di San Bartolomeo a Fano, ora occhi puntati sul mercato settimanale cittadino, che come tutti sanno si svolge nel centro storico nelle giornate di mercoledì e sabato. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra amministrazione comunale, commercianti ambulanti, le forze di polizia, cofcommercio e confesercenti, dove si sono stabilite nuove regole da rispettare. A spiegarcele oggi è stato l'assessore Etienne Lucarelli. Sì, è chiaro che in questo momento assistiamo a una crescita rispetto ai contagi del virus, è altrettanto chiaro che la salute delle persone è preponderante rispetto a ogni altra cosa. Dall'inizio abbiamo da subito creduto che il lavoro delle persone, il lavoro degli ambulanti del mercato sia importantissimo, per cui abbiamo ripristinato il mercato. In questo momento abbiamo notato un rilassamento rispetto alle misure, quindi abbiamo dovuto annullare la fiera purtroppo perché non c'era possibilità di garantire sicurezza e adesso è il momento di stringere la vite anche sul mercato. Lo facciamo ripristinando tutte quelle misure che avevamo portato all'inizio e cercando anche di poter attivare maggiori controlli. Lo facciamo ad esempio controllando meglio, delimitando meglio gli spazi che dovranno utilizzare gli ambulanti tramite dei chiodi topografici che verranno inseriti in piazza 20 settembre in accordo con la soprintendenza, che delimiteranno meglio la condizione, ci daranno possibilità di lasciare i giusti spazi per i flussi alle persone che saranno controllati con i sensi di marcia, verranno controllati gli spazi di vendita con la catenella a un metro del banco, ovviamente permane l'obbligo delle mascherine e permangono tutte le altre misure. Abbiamo fatto un incontro insieme all'assessore Cucchiarini, insieme ai vigili urbani e ai nostri dirigenti del commercio, c'è stata anche una buona disponibilità da parte degli ambulanti e crediamo che tutte queste misure sono necessarie per dare controllo al mercato e per far sì che gli avventori, coloro che vogliono partecipare al mercato e vogliono vivere nella nostra città, possano trovarci nelle migliori condizioni di sicurezza.